Yeah yeah yeah, good evening! Stasera 29 agosto 2019, ben onda la sesta puntata di Funky Disco! Un'idea di Edoardo Serra ed Enrico Rossi solo su www.radiosmusic.it Selezione musicale by Enrico Rossi. Buon ascolto a tutti! Grazie 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 a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.